Benvenuto al dottor Stefano Carughi, internista, lo ricordo responsabile del pronto soccorso all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Benvenuto, dottore, perché oggi dobbiamo parlare di un argomento che a noi sta molto a cuore, ma anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che proprio poco tempo fa ha lanciato un'ulteriore allerta sull'uso sconsiderato degli antibiotici in tutto il mondo. Leggevo questo dato, uno per tutti, insomma è una delle più grandi minacce, preoccupazioni per la salute pubblica mondiale, perché nel 2050 ci saranno 10 milioni di morti, se non iniziamo a preoccuparci, quantomeno a usare bene i nostri antibiotici, perché occorrono, sono dei salvavita. Allora, iniziamo subito a capire che cosa sono le infezioni e da che cosa sono determinate, partiamo dalla base, da che cosa sono determinate queste infezioni. Le infezioni sono delle situazioni infiammatorie dell'organismo provocate da agenti biologici. Per agenti biologici intendo batteri, virus e misceti, cioè funghi. In realtà, nella vita di tutti i giorni, nella popolazione, diciamo così, noi abbiamo a che fare sia con infezioni batteriche che con infezioni virali, prevalentemente. Tanto per fare degli esempi, le sindrome influenzali, quelle che chiamiamo, allargando il termine, influenza d'inverno, sono tutte forme virali. Le polmoniti, per esempio, invece, possono essere forme sia batteriche che virali, e ne abbiamo avuti degli esempi tragici proprio con il Covid negli anni scorsi. Una infezione abbastanza comune nella popolazione conosciuta, la cistite, è invece un'infezione di tipo batterico. Batterico. Allora, iniziamo anche a rispondere alle domande e ai dubbi dei nostri amici che ci stanno seguendo da casa. Rispondiamo a Stefania, ci scrive da Livorno e ci chiede, quando ho la febbre prendo l'antibiotico, è giusto? Non è l'unica, dottore, a comportarsi in questa maniera. Non è una giusta pratica, tanto frequente quanto sbagliata, diciamo così. Perché? Per due ordini di motivi. Innanzitutto, la febbre non è sinonimo di infezione. Molte malattie non infettive, non da infezione, si possono manifestare con la febbre. In secondo luogo, se è anche un'infezione, potrebbe essere un'infezione di natura virale, per la quale gli antibiotici sono totalmente inutili. Quindi, questa è la prima regola, quando uno ha la febbre dovrebbe consultare il medico per avere delle indicazioni, diciamo così. Un'altra pratica malzana, e poi me lo dirà lei, è quella che quando un'infezione torna, magari, si ripete la stessa terapia antibiotica. È una prassi sbagliata anche in questo caso? Anche questo... Perché non vogliamo disturbare il medico, per cui magari noi, ripetiamo, continuiamo a prendere l'antibiotico che magari abbiamo preso fino a qualche giorno prima. È sbagliato? Anche questo è sbagliato. Facciamo, diciamo che partiamo da un'indicazione giusta. C'era effettivamente un'infezione, sembra andare bene, però poi l'infezione ritorna. Allora, ci troviamo di fronte a due possibilità, diciamo. Nel primo caso, la terapia antibiotica non è stata proseguita per tutto il tempo dovuto. Cioè, il paziente si è sentito meglio, ah, vedi come ha funzionato, interrompo. E in questo caso, ha ottenuto sì il miglioramento clinico, ma potrebbe non aver eliminato la causa dell'infezione, cioè il batterio, il germe che è in sé. La seconda possibilità, invece, e andiamo al cuore, diciamo così, di questa intervista, potrebbe aver sviluppato, il germe che lo ha infettato, una resistenza verso questo antibiotico. Quindi, in una situazione del genere, è opportuno consultare il medico, non fare il fai-da-tenso. Il fai-da-tenso, bisogna capire esattamente che tipo di batterio, e a quel punto, magari poi, la terapia antibiotica deve essere modulata in base al batterio che ci ha colpito. Colpito. Allora, iniziamo a rispondere anche a Danilo, ci scrive da Mantua, ci chiede, ho iniziato l'antibiotico, ma dopo due giorni sto bene. Posso interrompere un po', il professore ha risposto a questa domanda, perché, insomma, è una prassi comune, ma è sbagliata. Non è una prassi sbagliata, proprio perché potrebbe succedere che, meglio clinicamente, ma anche abbastanza comune, perché uno tende, ma perché devo prendere, sto bene, esco, così. Però potrebbe non aver eliminato l'infezione dal proprio organismo e questa ripresentarsi. In linea di massima, per esempio, si dice che una terapia antibiotica andrebbe protratta, poi dipende da infezione a infezione, per almeno 72 ore dalla fine della febbre. Cioè, finita la febbre, altre 72 ore. E così, normalmente, insomma, si raggiunge l'eradicazione e l'eliminazione del germe. Allora, bisogna adesso fare una chiarezza totale, perché c'è tanta confusione anche sull'assunzione dell'antibiotico. In che modo devono essere assunti gli antibiotici, dottore? Allora, innanzitutto serve un'indicazione, una prescrizione del medico. L'antibiotico va prescritto nel momento in cui c'è la certezza, o perlomeno un'alta probabilità, che ci si trovi di fronte a un'infezione batterica. Il medico formula questa diagnosi, quantomeno ipotetica, ma la formula, e prescrive un antibiotico. Quindi prescrizione medica. A quel punto bisogna rispettare dosi ed orari. Ci sono tutti i problemi di cinetica, cioè di come il farmaco entra nell'organismo, che ci impongono di rispettare determinati orari, per avere un'efficacia, diciamo così. Quindi rispettare dosi ed orari e completare il ciclo di terapia, fino a quando si è finito. Quindi non interrompere la cura in anticipo, non assumere le dosi avanzate. Se avanzano, finito, non è che si conservano lì per la prossima volta, diciamo così. E ovviamente non assumere i farmaci scaduti, che vanno smaltiti correttamente, non negli scarichi, ma andrebbero smaltiti in farmacia. Ci sono altre domande relative all'assunzione dell'antibiotico, ma adesso ci dobbiamo fermare per una piccolissima pausa pubblicitaria. Poi le voglio domandare se dopo pasti, prima dei pasti, questo è importante, ma vi diremo tutto. Subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi. Finiamo noi qui in studio a parlare con il dottor Stefano Carughi, parliamo di antibiotici. Abbiamo capito come devono essere assunti, però una domanda è d'obbligo. Prima, dopo dei pasti, perché c'è tanta confusione, no? È importante saperlo. Sì, è importante saperlo. In linea di massima dobbiamo dire questo, che i pasti interferiscono con l'assorbimento dei farmaci. Quindi, idealmente, i farmaci andrebbero presi a una certa distanza di pasti, diciamo così, fino a mezz'ora, 20 minuti prima o comunque due ore dopo. Questo fatto salvo determinati farmaci, ma sono una minoranza, che per essere assorbiti meglio devono essere consumati durante il pasto. Durante il pasto, per cui lontano dai pasti. In linea di massima, lontano dai pasti. Poi dipende da patologia a patologia, insomma. Assolutamente, sì, stiamo parlando di terapie lunghe, a base proprio di antibiotici. Allora, professore, quando si può dire che una terapia antibiotica non sta funzionando? Quando i batteri stanno diventando troppo resistenti? Allora, no, diciamo così, che una qualsiasi terapia antibiotica per un'infezione la si giudica in 72 ore. 72 ore è un po' un termine, già l'abbiamo utilizzato prima per un altro motivo. 72 ore significa che se l'antibiotico sta funzionando, cioè sta eradicando, eliminando l'infezione, beh, qualche risultato si deve vedere. Nelle 72 ore? Nelle 72 ore. Quello è il termine massimo. Passate le 72 ore, beh, probabilmente c'è qualcosa che non va, potrebbe essere l'antibiotico non adatto a quel germe. E ci sono degli esami specifici per capire esattamente se questo batterio o questa terapia non sta funzionando bene? Ci sono gli esami culturali. Diciamo che una terapia antibiotica, l'abbiamo detto prima, dovrebbe essere iniziata nel momento in cui si ha la certezza che ci si trovi di fronte a un'infezione batterica. Noi questo lo possiamo fare con gli esami culturali. Gli esami culturali che cosa consiste? Si prende un materiale biologico, prima abbiamo fatto l'esempio della cistite, in quel caso si prende l'urina. Il laboratorio mette questo materiale a contatto su dei terreni di cultura, si fa sviluppare il germe che viene isolato e identificato. E questa è la cultura. Nel caso delle urine si chiama urinocultura. A quel punto isolato il germe si effettua l'antibiogramma. L'antibiogramma che cos'è? Il germe viene confrontato, messo a contatto con tutta una serie di antibiotici e si può verificare in vitro a quale antibiotico è sensibile e a quale può essere resistente. Diciamo che idealmente ogni terapia antibiotica andrebbe iniziata con un'antibiogramma. In realtà questo non è sempre possibile. Uno nella vita di tutti i giorni, due anche e soprattutto in ospedale quando ci si trova di fronte a infezioni gravi, potenzialmente letali. In questo caso il medico inizia la terapia in maniera cosiddetta empirica, cioè in base a dei criteri di probabilità per il contesto di quel singolo paziente e per i germi più probabilmente in causa. Anche in questi casi, soprattutto in ospedale, si fa precedere l'inizio della terapia da una cultura e da un antibiogramma. Proprio perché se alle famose 72 ore non ci fosse risultato abbiamo un dato sul quale provare a correggere il tiro. Ci sono anche questi antibiotici ad ampio spettro. Questi possono come primo impatto, soprattutto quando si ha un paziente in ospedale, si parla molto di antibiotici ad ampio spettro proprio per questo motivo qui, dottore? Uno dei problemi dell'antibiotico resistenza è stato provocato proprio dall'uso degli antibiotici ad ampio spettro. Diciamo che il giorno d'oggi la tendenza è che bisognerebbe cercare di sparare con il fucile di precisione, piuttosto che con la bomba atomica, insomma, praticamente. Proprio perché gli antibiotici a largo spettro hanno contaminato l'ambiente, diciamo così, ma sono stati usati non solo in clinica, in medicina, sono stati usati anche per esempio negli allevamenti di sbestiame, nella speranza di ridurre le infezioni, diciamo così, e quindi eventuali morie di bestiame. Ma la diffusione dell'ambiente di questi antibiotici a largo spettro ha portato a selezionare dei germi resistenti. Molti antibiotici che sembravano promettenti sono diventati, non dico inutili, ma con un'attività limitata. Lei ha detto bene, gli antibiotici vengono utilizzati anche negli allevamenti intensivi, per questo si parla di strategia One Health, siamo tutti interconnessi tra di noi, ambienti, animali. La salute è una sola, è del pianeta, non del singolo individuo. Esatto, del pianeta, non del singolo individuo. Allora dobbiamo parlare anche di strategie, perché io ho detto all'inizio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato questo allarme, nel 2050 ci potrebbero essere 10 milioni di morte a causa dell'antibiotico resistenza. Tutti noi siamo implicati, perché se noi ci prendiamo un antibiotico, pur non avendo bisogno, creiamo questa resistenza. Allora, quali sono le strategie da adottare, dottore? Vabbè, le strategie da adottare sono essenzialmente prescrizione e assunzione quando c'è la reale necessità, e poi terapia antibiotica il più mirata possibile. Ovviamente questa da parte medico, per quanto riguarda tutti, perché la salute è di tutti, sensibilizzazione al problema. Non è che posso prendere l'antibiotico, tanto non succede niente. Forse a me non succederà niente, posso avere un beneficio, posso non averlo, ma in ogni caso un impatto ambientale lo provoco. E per cui siamo tutti interconnessi, come abbiamo detto, è un unica salute. Grazie, grazie per questi consigli al dottor Stefano Carughi, grazie per essere stato con noi. Grazie.